Terzo seminario organizzato dall'Associazione Stampa Toscana in collaborazione con la Prefettura prosegue l'iniziativa di conoscenza e confronto tra giornaliste e forze dell'ordine un momento dialettico importante nel quadro di un mondo dell'informazione che cambia continuamente il terzo appuntamento introdotto dal presidente della Sostampa, Sandro Bennucci ha visto protagonista l'arma dei Carabinieri con il comandante provinciale di Firenze Antonio Petti e i responsabili dei nuclei speciali, comando forestale e agroalimentare, nucleo tutela, patrimonio culturale, operativo, ecologico e antisofisticazione l'Associazione Stampa Toscana, sindacato ma da molti anni cerca anche di fare questi seminari per avvicinare tutte le fonti delle notizie ai giornalisti è un interesse che accomuna sia gli organi di informazione che l'arma dei Carabinieri entrambi impegnati nel sociale, entrambi nell'ambito delle rispettive funzioni ed entrambi orientati a poter fornire una comunicazione che sia la più obiettiva, la più concreta, la più tempestiva e trasparente possibile